Lo scetticismo, dal greco skepsis, che significa ricerca, dubbio, è una corrente filosofica nell'ambito dell'agnosologia, che nega la possibilità di raggiungere, con la conoscenza, la verità in senso assoluto. Nell'antichità erano detti scettici tutti quei filosofi che, constatando l'impossibilità di arrivare ad una conoscenza certa, persistevano nella loro ricerca senza fermarsi su posizioni definitive. Lo scetticismo esprime un'istanza tipica dell'essere umano, ovvero la soberania insoddisfazione di fronte al proprio conoscere. Lo scetticismo ellenistico si può dividere in tre periodi, il pironismo, lo scetticismo della media accademia e il neoscetticismo o scetticismo fenomenista. Il pironismo. Il principio essenziale del pensiero di Pierrone si trova nel termine ecatalessia, che indica l'impossibilità della conoscenza delle cose nella loro natura profonda. Questa impossibilità, secondo il filosofo, dovrebbe indurre l'uomo saggio a ritirarsi in se stesso e a praticare il controllo delle proprie emozioni, che non hanno un fondamento nella realtà. La via del proprio saggio, secondo Pierrone, è di farsi tre domande. Cosa sono le cose e come sono costituite? Come noi siamo legati a queste cose? Come dovrebbe essere il nostro atteggiamento nei loro confronti? Ricordato a cosa sono le cose, possiamo solo rispondere che non sappiamo nulla, in quanto sappiamo solo come le cose ci appaiono, ma sulla loro essenza intrinseca siamo ignoranti. La stessa cosa appare differentemente a persone differenti e di conseguenza è impossibile sapere qual'opinione è corretta. Quindi il nostro atteggiamento verso le cose deve essere la completa sospensione del giudizio. Lo scetticismo della media accademia In questo suo secondo periodo lo scetticismo si muove verso posizioni più radicali. I filosofi che difendono questa posizione si fanno sostenitori dell'inesistenza di ogni principio di conoscenza o verità. Uno dei principali esponenti dell'ascetticismo della media accademia fu Arcesilau, il quale affermava l'impossibilità di una conoscenza da di fuori di ogni dubbio, dicendo che l'uomo non può riconoscere con sicurezza neppure la sua ignoranza. Per arrivare a ciò, Arcesilau utilizzava un metodo di confutazione che prevedeva che venissero poste delle domande all'interlocutore, il quale veniva spinto ad aderire alle tesi del filosofo, che poi, invece, controbatteva con tesi contrarie a quelle che il dialogante aveva appena condiviso, di modo che ogni verità, sia del dialogante sia dell'interlocutore, venisse alla fine esclusa. Tra il meccanismo dialettico aveva lo scopo di giugnare la conclusione che né con i sensi né con la forza del proprio intelletto, è possibile avere una qualsiasi conoscenza certa. Il neoscetticismo In questo periodo lo scetticismo vede come principali esponenti Enesidemo di Knosso e Sesto Empirico. Nel loro scetticismo radicale, questi pensatori affermano che nulla può essere conosciuto in modo certo, né mediante la sensazione, né mediante il pensiero. Enesidemo e Sesto Empirico elencarono una serie di troppi modi e obiezioni per dimostrare ai dogmatici la necessità di sospendere il giudizio su ogni questione. Il neoscetticismo si caratterizza per il fatto di mantenere sempre aperta la ricerca al di là di ogni affermazione conclusiva, in conformità con le originarie intenzioni indagatrice dell'ascetticismo. L'ideale della vita senza dogmi permette di raggiungere una condizione di pace e di imperturbabilità inferiore, fin dalle origini l'ideale del saggio. Secondo Enesidemo, le condizioni per una conoscenza vera sarebbero tre. Che esiste una certa stabilità dell'essere, che esiste il legame causa-effetto, che sia possibile andare oltre ciò che appare. Egli smantella questi tre presupposti dicendo che non c'è stabilità dell'essere, l'essere, così come lo vedo, è e non è, cambia continuamente. Nei suoi tropi, mostra come non sia possibile sostenere la validità del principio di casualità. Si oppone, infine, alla convinzione che ciò che appare sia segno, simbolo, apertura a qualcosa che sia altro da sé. Sessi empirico, invece, afferma che noi non conosciamo le cose in sé, ma soltanto le sensazioni colte dall'intelletto che velano, piuttosto che rivelare, gli oggetti stessi. E tutto ciò che conosciamo sono le nostre impressioni. Anche l'elaborazione delle conoscenze, proprie dell'intelletto, è solo l'elaborazione di impressioni e pertanto resta una conoscenza soggettiva. Grazie.